Tornando alla tua carriera, tu hai giocato nel Watford, pochi si ricordano di questa tua esperienza, è stata solo di un anno. Che ricordi hai di Londra, del Watford e del calcio inglese? Io ho sempre amato il calcio inglese, quindi quando è arrivata questa opportunità di giocare a 38 anni con il Watford, il manager Viali, per me è stato veramente come coronare un sogno, di là che poi, ripeto, il fatto di aver giocato il Milan era già un sogno che è diventato realtà. Però ho vissuto a Londra e Watford per me è stata un'esperienza bellissima, il calore, l'atmosfera del pubblico del calcio inglese, anche se la championship è straordinaria. La Vicarage Road è rimasta nel mio cuore, gli Hornets è quella che è stata una parentesi, seppur piccola, della mia vita. non solo calcistica, quindi non ho ancora avuto modo di tornare a vedere una gara del Watford, anche se sono passati tanti anni, però conto sempre di poterci andare prima o poi.